Siamo live, sì giusto, siamo live, allora sigla! Ciao a tutti, ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria sempre live. L'ospite di questa puntata è Yoko Yamada, ciao Yoko. Ciao Daniele, ciao Stefano, è un piacere essere qui a Tintoria. Ciao. E ciao a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Il piacere è tutto nostro, benvenuta a Tintoria. Allora io apro ogni puntata dicendo come ho conosciuto l'ospite, però io e te fisicamente... A vero, mi si è staccato qualcosa dal suo... Vabbè, spero se un pezzo di vernice mi è caduto una cosa, vabbè, dai, andrà tutto bene. Io e te ci siamo conosciuti, forse c'è proprio di striscio nel backstage della vogheria una volta? Era la vogheria? Esattamente, era la premissima volta che ti vedevo dal vivo e portavi lo spettacolo, non ricordo il nome mai, il cane antidroga. Ugos, sì, sì, sì. Il cane antidroga che salutiamo, che tra l'altro è recentemente andato in pensione, è uscito un articolo bellissimo che il cane antidroga Ugos è andato in pensione perché, cioè, poi ho fatto un articolo, fai conto, la Guardia di Finanza di Napoli e dicendo che è stato un bravissimo cane perché comunque devono essere giovani perché devono stare belli sul pezzo e quindi io ho anche scoperto che i cani antidroga quando vanno in pensione si possono adottare, quindi io sono andato a cercare se poteva adottare Ugos perché sarebbe stato straordinario se avesse potuto adottare Ugos e invece ovviamente, cioè, chiaramente nel momento in cui non sono più in servizio li danno prima ai poliziotti o comunque sia alle forze dell'ordine, cioè immagino che ci sia una sorta di prelazione prima che li prendano persone che sono state beccate. In quanto ex-drogato di Azzanna, cioè comunque si creerebbe un rapporto conflittuale tra voi due, no? No, in realtà no, perché secondo me, io ripeto, con Ugos io ho sempre avuto un bellissimo rapporto, non è che giudico il fatto che lui mi abbia beccato, lui è solo un cane molto bravo che non che a beccarmi ci volesse poi così tanto, cioè bastava anche una persona che mi guardasse pigramente per dire lui ha fumato. Però Ugos era un cane molto bravo, Ercicoria, noto rapper, dice se tu al canile ti becchi un pastore tedesco che era della narcotica e poi ti fai tipo un giro al Pigneto a San Lorenzo, dopo che poi c'è stata una retata, ti fai il giro agli angoletti e ti rubi tutto il fumo e tutto l'erba e quindi... Pensa che strana coppia che saresti stati, il cane poliziotto e il lieve tossico, come si può dire uno che usa... Un tossico minore, no vabbè, ma poi ex, ormai neanche mi faccio più le canne. Ex tossico. Ex tossico minore. Lui che ti guarda male ogni volta, capito? Perché scendi una sigaretta. Lui che mi giudica, che ci guarda un po' male. Stupendo. Allora, Yoko, benvenuto a Tintoria dopo questa digressione. Grazie. No, noi ci siamo conosciuti quella volta e non so se tu avevi appena iniziato a fare stand-up comedy. O forse ancora non avevi iniziato a fare stand-up comedy. Era tipo forse due anni e mezzo fa, secondo me. Eravamo lì, perché se io ho iniziato, che Tommaso Fauro mi deve sempre ricordare la data. Quando sono incerta, chiedo a lui, la prima serata, primo open mic, mi staccherà marzo 2018. Quindi forse quando ti ho visto, comunque stavo entrando. Stavo per mettere un piede in questa nicchia. E tra l'altro, tu vieni dalla scuderia Falcone, giusto? Cioè, sei la scuola veneziana dei finti open mic del teatro alla vogheria. Assolutamente, scuola Falcone, esatto. Ci pensavo prima, sì. Ma come ti è venuto in mente di dire, ma provo ad andare ad open mic a fare stand-up? Allora, io andavo appunto, frequentavo questo locale, la Vogheria Venezia. Ma andavo a vedere il proprio teatro, vecchia scuola, la comedia dell'arte. Cioè, Pulcinella, per capirci, no? Pulcinella che salutiamo. Che salutiamo. E fin quando a un certo punto compare questo personaggio, che è Nicolo Falcone, che a un certo punto dice, vabbè, io vorrei organizzare una rassegna di stand-up comedy, e quindi che mi sembra fosse due domeniche al mese, ci saranno dei comici degli stand-up comedian italiani, a partire da Giardina, poi Ravenna, eccetera. Poi sei venuto anche tu, Viglia Lalli. E è stata la prima volta che io vedevo un comico, uno stand-up comedian, dal vivo. E mi ero persa Giardina, quindi, se non sbaglio, il primissimo è stato proprio Ravenna. E io, quando ho visto lui, ho detto, voglio anche questa cosa, voglio provarci. E nel mentre, in realtà, stavo già preparando, casualmente, un pezzo comico, ma non era proprio un pezzo comico, era un misto tra una roba di cabaret, cioè, una storia inventata, che io poi ho chiamato la mia storia d'amore, una storia d'amore inventata, ma che ha del surreale, cioè, non ha a che vedere con la stand-up comedy, lo vedi che proprio io lì recito. Faccio una parte, c'ho un braccio di manichino preso dal mio centro commerciale, che, insomma, ho questa storia d'amore tra me e una Barbie. Però avevo anche cercato di scrivere una cosa più da stand-up. e, fatalità, io sì mi sono esibita per la prima volta a quell'open mic organizzato da Falcone, una volta che si era chiusa la rassegna, però la sera prima o due sere prime, una o due sere prima, mi sono esibita in un altro locale, sempre lì a Venezia, coprendo Falcone, nel senso che, visto che quest'altro locale che faceva una sorta di, facciamo, David Letterman Show, che si chiama Frullatorio, che sono questi ragazzi di Venezia che fanno imitazioni, video, esilaranti, eccetera, avevano iniziato a invitare anche Falcone per fare uno sketch di stand-up. Quella sera gli si era ammolato il figlio, per cui due o tre ore prima hanno chiamato me, perché comunque li conoscevo e sapevano che stavo scrivendo questa cosa, per cui io non l'ho provato all'open mic, ma quella sera prima al posto di Falcone. Ed era andata bene, infatti lui poi sapeva quando mi ha annunciato, cioè nel backstage mi ha detto, o mi hanno detto che ti è andata forte ieri sera. E quindi poi... Bene, bellissimo, continua questa wave di giovani comici che prendono il posto di Falcone. giovani comici veneziani che avranno il posto di Falcone. Senti, quindi giusto per precisare il braccio di manichino regolarmente acquistato al centro commerciale dove lavoravi, immagino. Sì, certo. Certo. Certo, in testi, poi l'hai rimessa a posto. No, banalmente faceva parte di quelli rotti, e quindi ho parlato con Vision Merchandise, detto sì, questi li buttiamo, li prendo io. Ma perché sono quelli fatti benissimo con le dita, che sì, proprio le falangi stupende. Che puoi modellare, quelli che puoi... Infatti mi capita spesso quando sto lavorando di passare a vedere il manichino, perché la gente passando si diverte a... Certo, è chiaro, è chiaro. Fatti bene, fatti bene il legno. Se si perde questa occasione. Senti, ma quindi tu già eri appassionata di teatro e già studiavi, cioè già scrivevi roba, ma perché stavi con qualche compagnia o no? No, allora io mi sono sempre definita un'appassionata di teatro, però una finta appassionata di teatro, nel senso che frequentavo questo teatro, e in più, quando ne avevo l'occasione, partecipavo sempre a dei piccoli laboratori che organizzava la mia università, ma ti parlo di laboratori che duravano da un giorno a tre, a sette, ma limitati nel tempo. Una volta, che ne so, il laboratorio sulle maschere, un altro su Macbeth, proprio a caso. Però comunque mi piaceva la sensazione del palco, del teatro, anche dei costumi, di mettere in scena qualcosa. Ma infatti a volte ci sono delle volte in cui mi dico, ma chi me l'ha fatto fare di fare stand-up? Io non voglio scrivermi le robe, io voglio recitare una parte. Diciamo questo quando magari sono un po' giù di corda, o mi è andata a mano una serata, e dico, ma è questo perché faccio schifo a scrivere, io devo mettermi un vestito, interpretare una parte, e poi non mi si può dire nulla, perché io sto interpretando un personaggio, non sono me stessa, però è molto più difficile, ma anche molto più bello quando esce bene. Per cui in realtà poi... Vabbè, comunque, quindi partecipavo a questi laboratori, però no, non facevo ancora parte di una compagnia teatrale, adesso sì, vabbè, col periodo che stavamo portando in scena sempre io, il mio coinculino, questi altri ragazzi, questa compagnia che si chiama Malmadur, cioè in realtà io sostituisco, non sono proprio parte della compagnia, sostituisco... Falcone, Michele... Sostituisco uno di questi ragazzi quando manca per portare uno spettacolo itinerante, insomma, poi ovviamente ci siamo fermati tutti per il Covid, però questo è successo dopo. Io sì, ero una finta appassionata di teatro, però appunto ti dico, io la stand-up, l'ho proprio conosciuta, la stand-up italiana, con questa rassegna che ha portato Falcone a Venezia. Ricordiamo che Falcone ha portato la stand-up comedy a Venezia. Senti, invece stand-up americana o comunque sia internazionale? Io dico sempre americana, ma magari tu addirittura guardavi a Est la stand-up, non lo so, cioè non ho idea. No, no, no. No, ecco, mi sono resa conto, poi una volta appassionandomi a quella italiana, perché una volta capito che volevo fare stand-up, guardavo sempre più video e soprattutto scoprivo sempre più gente come voi. Prima, però mi sono detta, ma aspetta, io una roba simile, già la guardavo, forse addirittura dalle medie, però più al liceo. Io, quando poi ho iniziato anche magari a studiacchiare su qualche libro e leggevo George Carlin, per esempio, andavo a vedere chi era e dico, ma dai, ma sì, ma lui, ma questo pezzo l'ho visto venti volte, per cui mi sono resa conto che io in realtà sono sempre stata appassionata più che del teatro, ma più della comicità. Però, ogni volta che li guardavo, non ho mai pensato piacerebbe farlo anche a me. Io, su YouTube, scrivo sempre qualcosa, magari poi, vabbè, sai delle ricerche correlate, eccetera, sempre subita. Mi guardavo queste robe qua, da Louis C.K. a George Carlin e poche donne, effettivamente. Però sì, quello che mi suggeriva YouTube, non avevo altri canali. Poi, vabbè, ovviamente, mi ricordo ancora quando poi, finito l'open mic con Fauro, eccetera, che eravamo nel backstage a mangiare pane e salame, c'era Falcone che diceva, ah no, prima, scusami, prima dell'open mic, quando si era esibito qualcun altro, banalmente, ma poteva essere stato Giardì, Ravenna, lui aveva capito che io e Fauro e altri volevamo iscriverci all'open mic e ci ha chiesto, ma quindi siete appassionati, cosa sapete, eccetera, e ha detto, allora, primo consiglio, scaricatevi Netflix, guardatevi tutto il possibile e così io feci e infatti, boh, penso di aver visto quasi tutto oramai e tra l'altro tengo anche questo quadernino ogni volta che vedo qualcuno, l'ultimo che ho visto è stato ieri sera un islandese che mi era sfuggito. Quello carino, io l'ho visto metà Pardon my Icelandic, carino, simpatico, perché lui mi dà proprio questo vibe che secondo me hanno tutti gli islandesi probabilmente non è così, di persona comunque sia generalmente buona, quindi è tra l'altro buonone, anche se fai Italian Shaming che dice quella cosa, questa cosa le persone non sanno che noi siamo gli italiani del nord Europa perché rimandiamo tutto quanto e facciamo sempre tutto dopo che comunque c'è anche molto di più della cultura italiana però siamo anche più consapevoli che ha ragione. Tra l'altro penso sia nella scuderia dove c'è anche De Carlo insomma di quei comici Ah sì? È nella stessa mega agenzia internazionale internazionale sì 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 Davvero? Wow! Non avevo idea mi pare di sì quindi la prossima volta che De Carlo lo vede gli diciamo di dargli un pugno diciamo questo questo è per l'Italia e comunque sì quello forse è uno dei momenti più belli quando si scopre la stand up e quando ci si avvia a scrivere qualcosa c'è tutta la fase prima quando entri in un rabbit hole di stand up comedy inizi a guardare a manetta tutto quello che ti capita davanti devo dire ricordo con grande nostalgia con quei due tre anni in cui mi guardavo 50 cose al giorno adesso devo dire ne guardo molta di meno sono anche diventato più sono là più critico più tecnico mi guardo molto meno cose non so se anche tu hai avuto questo tipo di evoluzione o se ancora sei nella fase vorace assolutamente no fase vorace sì 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 dai perché quella è la parte più bella senti allora a questo punto chi sono questa è già la domanda però chi sono quelli che ti piacciono di più cioè all'inizio non si guarda tutto quanto adesso che fai un po' più di selezione cioè chi è che dici questo mi guardo oppure chi è che ti riguardi perché io quella è una cosa che faccio cioè non mi guardo tante cose nuove però mi riguardo monologhi tipo per 50 volte allora ho iniziato a riguardare da pochissimo il mio preferito uno dei miei preferiti dai non è proprio james a caster ditemi che lo conoscete ok a voi piace o perché ci sono no a me piace ho visto dei suoi di repertoire ho visto solo i primi due spettacoli non li ho visti tutti e quattro perché poi appunto di cose però però mi piace mi piacciono però non così tanto da guardare tutti e quattro insomma mi spiace ci sei rimasta male no ok insomma l'hai trovato carino ma niente di che lui è proprio geniale dall'inizio alla fine mi è piaciuto mi piace anche che faccia la roba fisica mi sa che il secondo spettacolo inizia tutto in ginocchio a me comunque quella roba mi piace molto il primo che era quello che c'era che poi lui faceva finta di essere un poliziotto c'era questa che ricorrente che diceva in incognito esatto sì 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 che l'ho comunque l'ho già sentita mi sembra una cosa già sentita però non so se forse l'ha detta prima lui e poi l'ho sentita da qualcun altro però non mi ricordo chi era c'è questa roba del fare finta di essere un poliziotto guarda l'ho detta pure io quando faccio i monologhi sull'erba persino io l'ho fatta però con meno ricorrenza e meno bravura però una volta che parli di droga e dici chi si droga poi è una vecchia mossa di noi comici no però la cosa è che dici beh sono della polizia però sì mi ricordo che lui lo faceva come cosa ricorrente molto divertente divertente come me chi può dirlo quindi quindi lui nel cuore esatto Sloss sì mi piace molto anche Chris Delia sì che tra l'altro Chris Delia se posso è appena tornato dopo essere stato cancellato per un anno perché Chris Delia scriveva è stato accusato di provarci con ragazze minorenni ma lui si è difeso dicendo no guarda effettivamente io scrivo solo a ragazze maggiorenni e adesso è tornato ma tipo il mese scorso ha ricominciato a fare video a postare cose perché per un anno è stato ufficialmente cancellato ma è come andate ce l'hanno scagionato come funziona ce l'hanno beh lui non è stato non ha fatto niente di illegale perché allora lui l'avevano accusato di fare grooming che credo sia invece proprio un reato in America cioè che quando una ragazza minorenne tu diciamo credo è un termine molto molto brutto cioè come si suol dire te la coltivi se posso se posso dire una nefandezza in italiano e quindi è quando comincia a scrivere una ragazza minorenne e così poi quando è maggiorenne arrivi tu e fai ehi sei maggiorenne eccomi qua però lui dice no guarda in realtà io ho avuto tutti i miei ho tutti i cazzi col sesso sto in fissa col sesso effettivamente vado a letto con ragazze molto più giovani di me perché credo lui abbia 40 anni appunto usciva frequentava ragazze di 18-19 anni però lui dice un conto è essere una persona con problemi sessuali e un conto è essere un criminale però per un anno è sparito cioè nel senso perché comunque tutti dicevano ah no tu sei una merda sei un pedofilo tra l'altro lui interpretava il pedofilo in una serie tv proprio mentre è uscito fuori sto scandalo e e adesso è tornato dicendo ah mi rendo conto di essere come dicono nei commenti di essere stato super viscito anche perché lui credo abbia un figlio è fidanzato e però sì mega viscito perché appunto sei comunque un un comico quarantenne poi lui c'ha mega successo sui social almeno c'aveva mega successo sui social e quindi così si è fatto un po' un giro di gogna più o meno giusto poi questo sta alla morale delle persone senti ti piace questa coincidenza che tipo che ne so lui faceva il pedofilo in una serie e è stato accusato di questa cosa lui si chiara aveva fatto il film su un cioè su lui che parlava delle donne con quella specie di l'avete visto il film di Louis CK che non è mai uscito no non l'ho visto è che c'era questa specie di Woody Allen diciamo il registro che lui l'ammirava però poi si scopriva che poteva essere interessato alla figlia eccetera e quindi c'era sempre questo tema del fare cose inappropriate con le donne e poi è creduto per quella cosa quindi c'è chissà se è qualcosa di inconscio che gli fa fare che gli fa cercare ruoli e quando quando vai con ragazze molto giovani poi il tuo agente dice c'è questo ruolo per uno che va con ragazze super giovani non dire altro mandi un self tape di te proprio veramente di te che ci provi con te le 18 anni se Antinor ha fatto di narcos vuol dire che esatto se Antinor ha interpretato Pablo Escobar vuol dire che c'è un animo da narco praticante bellissimo senti ma e Chris Delia ti piace perché invece cioè che cosa ti piace Chris Delia perché lui cioè l'ultimo spettacolo su Netflix dei tre che c'ha lui non mi era piaciuto per niente i due prima zero cioè proprio l'avevo guardato e stavo a dire non mi diceva proprio niente mentre i primi due di lui mi piaceva tipo che c'ha pure lui una comicità molto fisica molto fisica mi era piaciuto no i primi due mi erano piaciuti molto cioè scherzosi niente di trascendentale però mi piacevano faceva ridere come si muoveva come parla pure sta cosa che i comici che ridono delle proprie battute a me per qualche motivo mi fanno ridere perché sono una persona molto semplice però l'ultimo non mi era piaciuto per niente allora rispetto agli altri comici che hai detto che invece sono un po' più ricercati e tecnici lui è un po' più un bro se posso usare questo termine assolutamente no no esatto forse mi piace proprio per la sua semplicità e il suo sicuramente molto fisico così come maniscalco forse voi mi direte che non siete team maniscalco no no maniscalco mega fisico a me pure lui mi piace devo dire anche lui l'ultimo meno di quelli prima quello a come si chiama quello a New York New York City Music Hall City Music Hall quello mi è piaciuto meno di altri spettacoli usciti prima sì ho un po' paura cioè paura a dire i miei gusti però l'ultima volta che li ho detti ero con con Fauro che mi ha detto che ho proprio dei gusti da boomer e che non apprezzo no no perché effettivamente certi certe pietre miliari non proprio non le tipo appunto adesso manco mi viene il nome ma perché non riesco non mi fa ridere e oddio dai aiutatemi Bill X agli occhiali no 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 indovina chi è bianco no 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 raga mi è venuto in mente Dave Chapelle quindi pensate non era bianco vedi già avevo sbagliato ma anche molti altri io mentre gli dicevo questi nomi Tommaso Fauro scotteva la testa e diceva no dai ti prego no Maniscalco no Yoko non ti piace Chapelle no 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 non so cosa dirvi vabbè vabbè guarda The Goosebus non disputando ma va bene cioè la comicità è molto soggettiva però e però ti piace cioè ecco appunto Maniscalco sì Chris Delia sì e Jim Gaffigan anche Jim Gaffigan ah ecco no ecco poi questa cosa forse però non so cosa dire a me fa spicciare a Kevin Hart lo so super mainstream però cioè no Kevin Hart mi fa ridere pure a me poi di Kevin Hart io a Kevin Hart sono molto legato perché quando ho iniziato a vederlo tipo otto anni fa ancora non era così grosso e quindi poi l'ho visto esplodere nel mio piccolo cioè gli ultimi anni di solo della sua carriera però l'ho visto esplodere quindi me lo coccolo molto anche lui come tutti quelli che poi fanno cioè almeno per il mio gusto nel momento in cui tu fai uno spettacolo di stand up anche in un teatro grande io sto in fissa poi nel momento in cui lo porti in una cazzo di arena in uno stadio cioè a un certo punto stai facendo qualcosa che non è quello che piace a me cioè nel senso non sei Beatles stai facendo stand up comedy fallo cioè poi per loro un teatro piccolo è tipo 3.000 persone capito è certo e per loro dicono era un piccolo teatro 1.900 posti che a Roma è tipo il teatro più grande che si possa fare per loro è tipo 3.000 sono pochi però fallo per 3.000 non lo fare per 25.000 persone perché almeno per me poi si perde un po' si perde un po' l'intimità che poi è alla base della condivisione che rende straordinaria questa forma d'arte ma allora perdonami Daniele allora devo farti una domanda allora finire in tv è un po' si perde infatti tu mi insegni che la televisione è proprio un mezzo diverso rispetto al live cioè nel senso si fa una cosa apposta per la televisione che è diverso da fare uno spettacolo dal vivo la comicità quella veramente bella secondo me è quando è condivisa di persona e in televisione sia a fare stand up ma ancora di più a fare non stand up a fare un programma dove intervieni dove parli come poteva essere nel nostro caso battute sono due prodotti diversi e lì stai proprio creando un contenuto diverso per un veicolo diverso non so cioè appunto tu ti sei divertita di più cioè ti diverti di più a fare una serata pura genuina dal vivo o ti sei divertita di più a registrare come di central no sicuramente il live mi ha insomma vabbè sì a parte allora ho solo un paragone che è come di central eppure in una situazione di covid con la gente no non c'è paragone dovrei avere più mi astengo da queste risposte no però penso che il live eppure c'è nel senso bellissimo monologo che è andato molto bene che è esploso quindi da paura c'è nel senso detto come di central proprio perché a te come di central ti ha funzionato molto bene funzioni molto bene su come di central però come come impatto non so se appunto ti sei divertito di più quella sera che hai registrato quel monologo di grande successo ti diverti di più a fare una serata dal vivo no no sicuramente la serata dal vivo sì 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 perché eppure c'è nel senso è più sì è più è più genuina è più è più vero senti era comunque live anche quella comunque c'è nel senso era c'è non so quanto come paragone possa calzare nel senso che comunque è sempre live però ripreso però quando quando registri almeno cioè nel senso una serata registrata dalla televisione per la mia esperienza è sempre meno divertente un po' più impostato sì ma anche esatto i problemi del pubblico li lasciamo per un'altra cosa del pubblico che viene alla registrazione però sì diciamo in generale la differenza forse è che quando fai una cosa per la televisione stai pensando al prodotto che poi andrà in onda quindi il rapporto che c'hai col pubblico è molto più blando invece a live sei più concentrato su quello quindi è c'è più un dialogo diciamo così sì è più una cosa condivisa Yoko non è detto neanche una donna non è una colpa no 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 ci stavo arrivando anzi dice non è una colpa anzi si vede che c'è buon gusto allora allora banalmente lasciatemi dire banalmente Ellen DeGeneres che salutiamo prossima ospite d'intoria mi ha fatto impazzire Fortune Ramster ok sì sì ho capito la bionda lesbica che parla sì 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 che parla in quella chiesa in quella finta chiesa dove dice here is church perché è del Texas del sud ma infatti mi ha fatto venire in mente che tra l'altro questo special special finisce con un coro gospel no mi sto immaginando no può essere finisce con tutti che cantano può essere che io non l'abbia finito di vedere quindi insomma ok ah quindi tu ti capita anche di lasciarli a metà così bruttamente ormai tantissimo ormai tantissimo io invece anche se mi fanno schifo li finisco non so perché questa cosa masochista però vabbè ma sì forse devo tra qualche anche tra qualche anno anche a te tra qualche quando avrei visto ancora più cioè magari no magari te sarà sempre questa vena però io mi considero ancora un appassionato di stand up però ormai delle cose cioè se non mi piacciono dico vabbè senti c'è tanta roba che mi piace io te sallustio non ti voglio vedere certo forse dipende anche dalla durata perché ad esempio Tiffany Haddish che ha fatto due stagioni di Day Ready sì o almeno uno su dieci forse mi è piaciuto nella seconda stagione mi è piaciuto quasi soltanto il primo ok ho detto dai sto giro e fa le imitazioni quello fa ridere infatti cavolo quando imitazioni che prende il pipistrello l'ho guardato due volte gli altri zero però mi dico beh dura 20 minuti resisti però non mi sono tanto piaciuti sì io per esempio su quelle cose là cioè sulle selezioni di Netflix di spettacoli più corti pure là mi capita che dico vabbè dai dura poco e poi a metà di un comico dico beh sta raffinendo e invece manca ancora tipo un quarto dico ma vai raffanculo com'è possibile non mi sto divertendo e quindi schippo certo e comunque poi sicuramente la Silverman la Silverman Sara Silverman Sara Silverman sì Sara Silverman fa un botto ridere tra l'altro lei ha un solo spettacolo su Netflix mentre invece ce ne sta un altro che girava su YouTube prima che la stand up andasse di moda e togliessero tutto quanto da YouTube almeno io ho questa immagine quando io inizio a guardare la stand up su YouTube c'era un botto di stand up americana su YouTube e poi è sparita tutta quanta quando banalmente è arrivato è arrivato Netflix e c'è un altro spettacolo suo molto bello che però non l'ho mai più ritrovato da nessuna parte però sì Sara Silverman spacca devo dire devo dire molto divertente e allora come siamo finiti a parlare di Sara Silverman adesso mi sono no mi chiedevi comiche comiche esatto ti chiedevo comiche perché poi a dire comici sono brevi tutti ma diciamo le comiche adesso sentiamo quali sono le comiche che fanno invece ridere Stefano Rapone no stai bene sì no l'avevo visto frizzato volevo volevo fare questa gag poi la clippiamo ma è di nuovo frizzato Stefano si rifiuta di rispondere a questa domanda per lui è molto difficile ecco sei tornato sono tornato Stefano hai chiuso quando quando ti ho chiesto quali sono le comiche che fanno ridere te hai detto no no io esco errore di sistema esatto le comiche mi fanno ridere sì non ne abbiamo mai parlato è vero fammi pensare è difficile no vabbè perché in realtà io avendo visto gli spettacoli all'inizio cioè quando appunto c'era la prima ondata io mi ricordo che le comiche che venivano tradotte erano molto poche e quelle che c'erano che giravano erano appunto Sara Silverman Ellen e chi mi piace mi piace Amy Schumer sì Amy Schumer allora io ho visto quello quello spettacolo che fece vestita tutta quanta di di pelle il letter special quello brutto e quello non mi non mi piacque mi ricordo e un po' di stand up fammi pensare c'era la mi ricordo che mi faceva ridere la moglie di Stuart Lee che faceva stand up fece una cosa una volta attraversiera da 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 formica e faccia tutta una una routine di stand up dal punto di vista di una formica e quello era molto buffo mi ricordo come si chiama la moglie adesso mi a me era piaciuto Bridget Christie ok Tina Fey però Tina Fey come come scrittrice come scrittrice non era una una comica come si chiama quella quella che aveva fatto quello spettacolo su Netflix con ah una Ali Wong Ali Wong sì era sempre incinta in tutti e due gli special peraltro sì quella mi era piaciuta e anche quell'altra che a me Michelle Wolf c'ha uno special di stand up che mi ha fatto ridere urla tutto il tempo riccia rossa c'ha una voce un po' no non la so ah sì sì ho capito che c'ha quello special in cui sta in ogni situazione in un palco diverso però un palco tipo sfigato no non me la ricordo questa cosa c'è sempre la vocetta un po' nasale quella è Jenny Slate quella è Jenny Slate mi sa che pure quella era figa di special vedi ormai siamo proprio dei boomer che non si ricordano le cose sì madonna no no non è Jenny Slate vabbè Maria Maria Brad for una nota così ah ok ok ho capito di chi stai parlando Maria Bradford Maria Bradford ci riscono anche Liza Lampanelli sì ho visto qualcosina ma Liza Lampanelli che salutiamo Liza Lampanelli che fa insult comedy esatto come Giorgio Magri forse più il contrario più il contrario però Liza Lampanelli sì che infatti sta in un botto di in un botto di roast tipo sui roast come vi vedete perché a me piacciono molto i mi piacciono molto roast però un botto di volte poi diventano una cosa molto schematizzata per cui a Liza Lampanelli gli dicono ah se sei una troia e ti scopi neri cioè nel senso cioè diventa molto grevita così però i bei roast sono belli non so Yoko se tu hai mai bazzicato e ti sei mai vista qualche roast ma no infatti volevo chiederti cosa intendi per roast il roast è questa pratica anglosassone per cui si prende un personaggio famoso che in teoria tutti i comici presenti conoscono che lo insultano e si insultano tutti quelli presenti sul palco e poi l'ospite della serata ma proprio si dicono delle grevate incredibili su youtube ce ne stanno alcuni molto belli ce n'è uno fatto a Donald Trump prima che fosse presidente molto bello ce n'è uno a Justin Timberlake carino c'è uno di James Franco di solito in America li organizza come di Central ma a volte dicono delle grezzate senza senza cioè in Italia sarebbe lì è bello perché vale tutto c'è anche parenti morti capito cose cose brutali c'è proprio vale tutto e la ridono e funziona c'è una persona mia sorella che sta cercando non so cosa salutiamo fai quello che devi fare ti salutano ciao benvenuto a Tentoria la giovane Yamada esatto young Yamada vai tranquilla abbiamo fatto abbiamo fatto una lista di comici alla fine hai visto è diventata infatti alla fine sì ma invece che ti volevo chiedere ma invece parliamo della tua origine nel senso tu come sai io sono ho studiato il giappone mi piace molto il giappone volevo sapere piace anche a te immagino visto che anche tu l'hai approfondito diciamo a parte a esserci così cioè qual è il tuo rapporto oggi con la tua si può dire madre patria per metà come si può dire con la tua origine padre patria in quanto figlia con il giappone con il giappone possiamo dire il giappone ma col giappone molto buono col giapponese è pessimo da sotterrarsi perché lo posso dire a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di tintoria io sono convinta che tu Stefano sappia il giapponese molto meglio di me tu usi forse quotidianamente il dicionario elettronico lo usi spesso ma lo uso sì cioè nel senso se trovo un terzo cioè non è che uso il giapponese così spesso da utilizzarlo così di frequente però se sto vedendo una cosa e dico ah cos'è questa parola vedo esatto esatto io dopo dopo la mia laurea trennale l'ho reimpacchettato e l'ho messo non so neanche più dove cosa sei lo creata in giapponese pensa un po' allora la faccenda è questa babbo giapponese mamma bresciana però io non l'ho mai imparato davvero cioè purtroppo non sono bilingue magari magari perché non avrei neanche fatto sto percorso avrei fatto qualcos'altro per cui alla fine del liceo mi sono detta cosa scelgo cosa scelgo e comunque mi sono sempre abbastanza appassionata di lingue ho detto vabbè vuoi non studiare il giapponese la lingua del papà perché veramente fino ai 18 anni io sapevo soltanto dire grazie ciao ho fame è buono di base sapevo scrivere solo il mio nome e all'università ho scoperto che lo scrivo sbagliato perché una goccina d'acqua in più sul kanji sul carattere di ovest che piccora con l'acqua insomma vabbè invece poi là appunto ho scelto la cafoscari che è una delle più prestigiose in Italia penso sia quella e quella di Napoli le più cioè non anche a Bergamo ma era troppo vicino a casa quindi mi sono trasferita nessuna delle tre ha studiato Rapone questo ci devo dire no perché io quando io ho cominciato a studiare c'era la neonata facoltà di studi orientali a Roma che era appena insomma stata fondata io sono entrato mi sono laureato quando ho fatto 5-6 anni dopodiché l'hanno chiusa mi sei un unicorno esatto ho fatto in tempo a fare tutto il percorso di studi e poi è scomparsa ma l'hanno chiusa come mai non avevano abbastanza iscritti per la vergogna di aver fatto è arrivato è arrivato uno tsunami chiamato Gelmini e ha no e ha diciamo e ha tagliato e ha tagliato gli studi pubblici tra l'altro uno tsunami poi c'è stata la risacca e lo tsunami è tornato quanto fa ride sta cosa proprio come le onde più forti si infrange si infrange sul nostro povero paese salutiamo Maria Stella Gelmini prossima ospite di tentoria comiciata nel 2013 però questa è un'altra sfida per cui questo però sì le altre quelle famose sono quella di Napoli e quella di Venezia sì quella di Venezia e quindi tu hai detto beh vado a studiare a Venezia vado a studiare a Venezia tra l'altro scegliendo anche come seconda lingua il cinese però in realtà quello non è molto approfondito cioè fai lezioni soltanto di grammatica non hai la parte da fare con il lettore o la lettrice in lingua infatti per dire il test finale l'esame poi non è necessario che scrivi i caratteri cinesi puoi anche scrivere in ping ovvero capito no anzi che fare disegnetti con l'alfabeto e gli accenti come si pronuncia bravissimo esatto l'alfabeto nostro con gli accenti e quindi in triennale poi mi sono fermata perché diciamo che i miei senpai ovvero i colleghi più grandi che mentre si erano laureati facevano la magistrale mi dicevano ma guarda sembra un po' di studiare un po' le stesse cose se non le stesse cose però ho capito che se volevo andare avanti era perché avevo bisogno di un pezzo di carta per poi insegnarlo andare a fare la traduttrice o che ne so se era solo per imparare la lingua ho pensato fare in natura di tre anni è più che sufficiente devo andare là e studiarlo là se proprio voglio e invece poi nel mentre crisi mi sono presa un anno sabbatico in cui ho fatto un po' la cameriera un po' l'assistente di viaggio un po' così a caso e nel mentre hanno aperto questo superstore di lusso in centro a Venezia il mio padre mi fa ma si dai manda il curriculum magari faccio dai ma papà ma centro come i cavoli a merenda io là dentro perché è una è lo shopping di lusso tu pensa è l'EVMH è quella roba lì e ho detto vabbè dai mandiamo sto curriculum mi hanno preso e quindi ora sono quasi cinque anni che sono che sono là dentro però nonostante le mie varie crisi esistenziali continuo a dirmi che sia perfetto perché è un lavoro part time sono sempre riuscita a conciliarlo con le mie serate con quello che dovevo fare ma questo non c'è tu mi hai chiesto che cosa in giapponese ci sono anche stato ti ricordi questo è stato il centro commerciale c'è una bella vista c'è una terrazza panoramica stupenda andateci che è molto si vede Venezia è bella esatto qualcuno ha indovinato tra i commenti bravo e comunque sì dopo la laurea triennale non l'ho più soprattutto perché al lavoro mi serve più il cinese che il giapponese anzi il giapponese non mi serve per niente perché lì i clienti sono quasi esclusivamente cinesi erano adesso è da un anno che non vediamo neanche un gruppo e quindi io ho anche un po' per pigrizia perché effettivamente mi puoi dire ti puoi guardare gli anime leggerti qualcosa invece per pigrizia non l'ho più ripreso per cui sono anche andata un po' regredendo per cui ora veramente penso che il mio lessico sia quello di un bambino di tre massimo quattro anni e se dovesse andare in Giappone cioè soprattutto è un po' difficile perché è una lingua molto come dire non abbiamo dare del tu dare del lei invece loro hanno molti più è più stratificato diciamo e quindi io sono sicura che farei una figura di merda enorme perché sa tra virgolette parlare soltanto la base e quindi come un bambino ecco come un bambino che non sa dare del lei anche perché è un po' infame perché certe parole cambiano cambia come lo dici se lo stai dicendo a un amico o o stai dando del lei tra virgolette per cui devi saperle non è che ti basta aggiungere non lo so la S alla fine no certo immagino ma tipo con tuo padre però non ti parlandoci non ti veniva da potevi fare allora allora mio padre il problema era quello lui ha sempre lavorato tantissimo soprattutto gli anni in cui tra gli anni in cui sono nata io che erano 93 gli anni 2000 ma anche prima insomma lui lavorava di brutto cioè usciva di casa alle 6 del mattino e tornava alle 11 per cui era poco a casa in realtà neanche mi ricordo della sua assenza cioè per me è sempre stato però effettivamente ho pensato l'influenza di mia madre gli amici la scuola cioè ma avessero che sono mandato ad una scuola magari giapponese nel pomeriggio invece no per cui quando tornava a casa lui mi chiedeva hai mangiato hai lavato i denti io quelle due cose sono guarda la stufa c'è la legna c'è base proprio poi mi ricordo che al liceo dove lui tra l'altro lavorava un po' meno per cui forse era anche più a casa e gli a volte mi incazzavo e diceva cazzo parlami solo in giapponese vuoi vedere se non lo imparo e la cosa andava scemando il giorno stesso perché lui iniziava diceva ok ti parlo in giapponese e mi parlava io non capivo e dicevo questo cosa vuol dire e quest'altro e lui non aveva di base questo lui non è che abbia tutta sta pazienza e neanche diciamo da spiegarti le regole grammaticali questo però ho notato che lo facevano anche le lettrici di giapponese all'università perché mi ricordo tra l'altro immagini di quest'aula enorme perché gli iscritti al corso di giapponese erano 400 circa e tipo quando spiegavano una certa regola io magari sapevo che era così perché la sentivo dal mio padre ma non avevo mai studiato la grammatica vedi una mano timida che si alzava e sensei prof scusi ma la differenza tra ua e ga in questa frase me la puoi spiegare meglio perché non l'ho molto capita e lei guardava la frase diceva è così e basta perché certe cose fatica a spiegarle e così come mio padre magari se mi chiedevo io pure non ho mai capito c'è effettivamente la differenza tra ua e ga che è una cosa vabbè complicatissima esatto per cui anche mio padre magari a volte cioè io mi ricordo ancora che una volta mio fratello gli aveva chiesto ma scusa papi il tuo nome si pronuncia Yasutsuji o Yasutsuji e lui aveva risposto ma è uguale non è uguale G si pronuncia G altrimenti si sarebbe la J però per lui ma sì è uguale o no questa cosa mi ricordo che la cosa che ce l'ho sentita anche da altre persone questa cosa perché allora quello che interessava era come veniva scritto tipo in kanji cioè è più importante perché poi come viene scritto pronunciato poi tipo sui documenti così e quello che gli interessava è che venissero scritti correo esatto sarà quella cosa lì ma invece ci vai adesso no però dico ci andavi in Giappone esatto in realtà neanche così spesso io ho fatto un paio di viaggi quando ero piccolina di cui non ricordi l'ultimo nel no aspetta uno nel 95 98 ero piccola non ricordo nulla un altro nel 2008 mi pare e l'ultimo è stato quando prima di laurearmi ho fatto tre mesi e mezzo alla Tokai University a Tokyo questo super campus con un sacco di attività di sportivi tra l'altro infatti mi ha fatto strano perché io nei viaggi precedenti insomma i giapponesi sono minutini sono magrini invece catapultata in quel campus erano tutti enormi che facevano non so rugby o calcio no no calcio però o kendo ed erano enormi dove sono stati nascosti finora e tre mesi e mezzo circa dove ho fatto praticamente il secondo semestre della della caposcari però anche lì mi ricordo che è stata durissima perché mi hanno accettato tra l'altro non era neanche la mia prima scelta di Overseas era tipo la seconda o terza scelta però alla fine ho accettato e siamo partiti in dieci italiani ci hanno fatto un test iniziale per capire in che classe andare siamo finiti tutti tranne due nella seconda la prima era top quasi madrelingua sono finiti due più bravi io e gli altri otto nella seconda e fin era fino alla quinta per cui non male però parlavamo tra di noi perché oltre noi italiani c'era una russa un egiziano una thailandese andava a finire che alle lezioni parlavamo italiano certo figurati nel dormitorio era pieno anche di altre ragazze di altre nazionalità si parlava inglese per cui il giapponese io lo parlavo di base solo durante la lezione a rispondere alla docente ma era difficilissimo io mi sono resa conto dopo la prima settimana perché già le lezioni iniziavano alle nove circa del mattino finivano alle cinque magari non consecutive ma comunque ma poi c'era anche economia diritto religione proprio io facevo una fatica a starci dietro e alle cinque io ero morta invece tu dicevi vabbè è finita però la giornata no i compiti i cangi i caratteri e quindi dopo la prima settimana di follia ho detto no io non passerò tre mesi e mezzo così per cui niente di base ho iniziato a sbattermi ho detto sarà quel che sarà quindi di base un po' copiavo un po' copiavo ma come 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 è il copiare la cioè nel senso perché io io ho studiato per tre settimane cinese all'università di Shanghai un'estate che è un'esperienza diversa però mi ricordo io con un amico sono andato e l'esame finale ce l'hanno fatto fare prima perché avevamo il volo qualche giorno prima della fine del corso e ci hanno messo in una stanza il professore ci ha detto ok questo è l'esame finale noi eravamo seduti là con questo professore ci ha dato il foglio e poi se ne è andato cioè e quindi eravamo io e lui uno a fianco all'altro in una stanza vuota e a dire vabbè facciamolo insieme perché proprio cioè loro l'hanno fatto così e quindi com'era invece il copiare in Giappone venendo dall'Italia il paese dove siamo maestri di copiare anzi ricito il libro paura e rischio in Italia di Lorenzoni dove si parla proprio di quanto copiare sia dannoso per la società ma quanto ci piace farlo allora devo dire molto simile innanzitutto non è come da noi che hai ogni tot la verifica o non so come anche al liceo l'interrogazione tu quasi tutti i giorni hai il mini test perché effettivamente se hai fatto i compiti il giorno prima cioè che ne so abbiamo generalmente da noi e finisci il capitolo due capitoli test di quei due capitoli lì invece boh ieri abbiamo studiato questi dieci caratteri nuovi domani test e quindi se lo superi è dato per per assodato e lo sai ormai sì mi ricordo la docente ci guardava ci diceva fate silenzio però sì di base non eravamo neanche così lontani e si poteva tranquillamente sì era un clima tipo quello non da lasciare l'aula però molto easy infatti non vorrei dire ma non c'è stato alla fine un vero e proprio test finale di cui aver paura ogni due giorni c'era il mini test ok e bene o male lo superavi ok devo dire io ho fatto un corso anche dopo la triennale pure io di tre mesi così però privato solo che era la metà del tempo che facevi tu tipo facevo tre ore una cosa del genere e c'era anche lì poi da fare i compiti a casa io ho fatto il tuo stesso ragionamento però per la metà del tempo io non posso stare qua tutto il tempo a studiare e quindi frequentavo ma poi andavo in giro e anche lì l'ho superato ma tipo per proprio il rotto della cuffia al test finale perché comunque ero anche finito in una classe forse più anche io più elevata perché ho fatto il test iniziale e quindi facevo un po' fatica però tutto è bene quel che finisce bene quel che finisce bene quindi il messaggio di Dintori è non vi preoccupate se scegliete di non studiare perché poi potete sempre copiare forza Italia esatto sì ma dai anche perché cavolo io dicevo già dalle nove alle cinque dall'unidio al venerdì siamo qua a seguire questa lezione dicono non mi frega niente il weekend secondo te io sto nel dormitorio a fare i compiti no il weekend si esce si fanno le esperienze si va in giro vedere le città che facevi da un gavi che facevi allora un po' con i miei compagni un po' anche da mio fratello perché nel mentre lui ha detto eh no cazzo anche io voglio andare in Giappone per cui ha fatto un corso da sì un corso privato di giapponese in un altro no sempre a Tokyo era penso che boh se erano 40 minuti di treno lo raggiungevo per cui di base al weekend cercavamo qualcosa da fare insieme io non ricordo grandi mete semplicemente andavamo a Zonzo a vedere cose ma te in che zona stavi? di che zona sei? di Tokyo? dove sei? allora aspetta parli di mio padre o quella Tokai University dove vivevi? il dormitorio dove ce l'avevi? allora fammi scrivere Tokai University comunque il quartiere sarà stato adesso dico una cazzata volevo dire Shibuya non è Shibuya per niente vabbè fate conto che in mezz'ora no meno in 20 minuti di treno io raggiungevo oddio no si è aperto le ammissioni eccetera per l'amor di Dio no è stato un inferno esatto no Tokyo vabbè ah sì perché tu dici Tokyo è enorme faccio un attimo capire dove vabbè facciamo Google Maps è proprio che era Shibuya come ho cercato pure io dici che era Shibuya e dice così e com'è questo Shibuya è bello Rapone Rapone conosce bene le zone con con gli studenti e le studentesse lui pensa è il Chris Delia di il Giappone ma Shibuya la conosci anche tu è quella dove c'è il la statua di Hachiko Lugos Lugos di Giappone Hachiko Lugos giapponese Lugos del sollevante Hachiko che ha specie a Roma a Roma si chiama Hachiko esatto la cultura giapponese dove c'è il famoso crossing quella insomma quella strada di dove si attraversa gigante che fa insomma dove iniziano dove iniziano a diffondersi gli zombie anche sì e là è fighissimo quel posto cioè pieno di locali di cose giovani si può dire un po' il pigneto forse non lo so però il pigneto più pulito un pigneto meno pericoloso vabbè che oramai è il pigneto per vecchi proprio come il Giappone tu sei per metà giapponese per metà italiana e quindi 100% due popoli che si stanno lasciando morire piuttosto che fare figli così è comunque Shibuya non è proprio vicino no infatti va bene va bene vicino al parco di Yoyogi però c'era un bel posto il parto che è Yellowstone nel parco di Yoyogi questa questa la potete impacchettare e portare a casa allora siamo arrivati a un momento chiave di Tintoria non so se sai che Tintoria è il podcast della legalizzazione e io chiedevo a ogni ospite cosa ne pensasse della legalizzazione delle droghe leggere ma questa domanda non mi dava soddisfazione e quindi la domanda che inizio a fare è che rapporto hai se ce l'hai o hai avuto se ce l'hai avuto con la marijuana e essendo tu una comica se hai un rapporto con la marijuana se ti sembra che ci sia una correlazione tra l'uso della marijuana e la creatività allora io penso di essere l'unica a risponderti così anzi sarei curiosa di sapere se altri ti rispondono così io non ho nessun rapporto zero nel senso che non ho mai neanche provato a fumare fumare marijuana direi tu no no manco il tabacco ok sono assolutamente a favore della legalizzazione sempre stata va bene che rapporto c'è invece in Giappone il Giappone come si pone nei confronti della marijuana se lo sapete perché essendo voi Stefano che magari in gioventù qualche tiro di spenale l'ha fatto però dubito che sia andato poi in Giappone a cercare la ganja non fuma qua poi invece in Giappone è il mio momento però come si pone lo sapete un po' come non ne ho idea ma secondo me non so se sapete sicuramente Stefano saprà ma in Giappone anche soltanto per fumare fumare tabacco devi stare nelle aree apposite che io adoro perché io non sopporto l'odore del fumo e quando vado in giro e quello davanti a me sta fumando io devo superarlo per forza a questi livelli siamo ok in Giappone non esiste questa cosa che la gente fuma per strassi sei proprio un ribelle un maleducato se fumi camminando devi stare nella tua area che è tipo proprio le trovi nel marciapiede delineata dalla striscia bianca e stai lì a fumare non rompi le palle a nessun altro e non penso di aver mai sentito odore di ganja passando o fumando girando per le strade ma neanche di toque di qualsiasi per cui non ne ho idea ma sicuramente lo fanno anche loro ma Stefano sei qualcosa di più? No io quello che dicevamo anche l'altra volta con Giada Messetti che io quello che sapevo è che se c'era qualcosa tipo di se qualcuno aveva della droga se ti beccavano tipo ti espellevano dal paese se eri ovviamente un turista un occidentale tipo per dieci anni quindi è una cosa che proprio è tabù in generale non credo che sia proprio permessa ma neanche appunto neanche i giovani capito c'è proprio una cosa che se ce l'ha qualcuno è strano cioè credo sia proprio un a questi livelli non pensavo però non mi sorprende sinceramente sì penso di sì cioè non poi non si vede mai cioè in generale anche in se tu pensi film comunque sia è raro che tu vedi uno che che lo fa o comunque un giovane c'è proprio una una cosa di cui non si parla quindi si vede che c'è proprio un tabù credo in generale ma in generale con la droga mentre invece l'alcol si sfondano tranquillamente è vero mi dicevi che ci stanno quelli collassati il giorno dopo il weekend che stanno là svenuti e tu ci cammini sopra quello è accettato cioè tu vedi questi proprio buttati per terra anche sui binari per dire sulle banchine della metro e tu semplicemente li scavalchi oppure c'è qualche addetto che li sposta tipo rispettosamente rispettosamente io una volta ho visto anche una mostra di un fotografo che ha fatto foto a tutti questi collassati i salari come? come? i salari sì 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 quindi cioè questo è bello cioè è un aspetto che comunque uno non si aspetta perché anche questo non se ne parla spesso però vai lì e tu vedi il degrado no? specialmente nei weekend invece lì è tutto poi ritorna nell'ordine il giorno dopo è tutto come se non fosse successo niente infatti infatti questa cosa è pazzesca vedi molto molto bello questo quando me la raccontò della prima volta penso che fosse un aspetto veramente veramente figo allora è il momento Stefano invece della tua domanda è un momento che facciamo una sigla chissà ma è bellissimo ringraziamo di nuovo Pietro Nikolausic per le grafiche stupenda che tu non so se segui se segui Dragon Ball se sei generazione ok ho due una domanda che sono due domande ma poi rispondi come meglio credi qual è il tuo personaggio preferito di Dragon Ball e o quello con cui ti identifichi di più oddio non ci ho mai pensato banalmente Goku no vedi Gohan Gohan scusa un attimo mi è sempre piaciuto il figlio Gohan tra l'altro Gohan Chibu riso certo 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 e Gohan è il tuo personaggio preferito è anche quello in cui ti identifichi di più no allora diciamo che identificarmi non saprei il tuo preferito quello che mi sta più simpatico e come mai e anche quale Gohan cioè in quale momento cioè Gohan super piccolo Gohan medio cioè Gohan fortissimo o Gohan studioso da grande no 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 direi proprio la fase in cui si allenano nella stanza come si chiama ah ok dello spirito e del tempo con con suo padre quindi prima subito prima di battere Cell quando sta per essere il più forte esatto il momento di di Gloria forse quello quello Top Gohan Top Gohan che comunque nel suo momento di Gloria lascia per strada un sacco di il padre per la sua arroganza quindi al suo momento di massima però lì è proprio massima espressione di Gohan Sayan bella quella fase bene bene bella risposta si chiude così questa rubrica sigla di chiusura oggi lei l'ha invertita oggi e oggi non è fatto che fosse più risposto ai confronti mettere prima quella dove vinci tu così poi fai la domanda e poi la chiudiamo e va bene siamo arrivati al momento delle domande dal pubblico anche perché stasera c'è il festival di Sanremo tu lo guardi è vero io non l'ho mai guardato in vita mia ma devo iniziare perché mi è amorosa ma convinta a fare il fanta Sanremo le faccio ma lo sai è vero che io non conosco nessuno a parte Fidez Bugo ma solo per la questione l'anno scorso non ho mai ascoltato una canzone di Bugo che salutiamo salutiamo lui produttore di tintoria è stupendo eccoci qua e gli faccio l'ho detto guarda che ho letto il regolamento i cento baudi ok però ho messo a caso totalmente a caso però mi ha detto lo sai vero che si guarda stasera per capire quindi io per la prima volta nella mia vita guarderò questo famosissimo festival di Sanremo a che ora inizia tra l'altro? tra poco mi sa che inizia presto tipo 8 e 40 io anche non ho mai guardato mi dicevano 8 e 49 perché poi dura tantissimo io anche non ho mai guardato Sanremo e tra l'altro la puntata di venerdì alle 15 di tintoria la facciamo con Chiara Galeazza e Filippo Ferrari in cui loro i nostri esperti di Sanremo perché lì volevo proprio chiedere quando è che è diventato un imperativo assoluto vedersi Sanremo perché quando io ero giovane Sanremo era normale non vedersi cioè io dicevo hai visto Sanremo? no invece adesso se non hai visto Sanremo sia una merda per me invece ero convinto fosse l'opposto che una volta ma più insomma col tempo l'avvento di internet tutti questi canali eccetera pensavo che una volta tutti lo guardassero e un po' alla volta la cosa si è andata scemando invece mi stai dicendo che al contrario adesso se non lo guardi se non ho sfigato? adesso un po' ultimamente è tornato un po' in auge nella mia bolla tutti che parlano di Sanremo se poco poco apri Twitter e non tweet di Sanremo cosa cazzo tweeti a fare? secondo me qual è il motivo perché anche noi abbiamo bisogno di un Super Bowl c'è qualcosa che sappiamo che tutti guardano e quindi per una volta questa ritualità capito che per una volta visto che era tutto con il camionettato c'è Netflix c'è quest'altra guardiamo questo caminetto tutti insieme ci riscaldiamo con queste note la nazionale italiana del calcio no però hai ragione no perché c'è ogni quattro anni e poi con il covid con le cose no no c'hai ragione c'hai ragione allora faccio faccio solo una selezione a alcune domande questa mi ha incuriosito squadra di calcio preferita perché segui il calcio c'è qualcosa che non so non ho mai seguito davvero il calcio perfetto allora prima domanda quando ero piccolina però ti favo la Juventus perché dicevo ha senso perché il colore della pallone bianco e nero quando era bianco e nero bellissima motivazione vincono loro bellissima motivazione peccato che poi ti ha portato a tifare la Juventus quindi anche non mi piace questa risposta sai anch'io seguivo una squadra per un motivo che però non ha a che fare col calcio che io andavo piccolo ero del Milan perché la mascotte era Satana è vero è vero la mascotte era Satana questo fa molto questo la dice lunga su di te poi io vi leggo questa domanda sperando sia appropriata quando farete un duo di o warai o warai tu e rapone non so cosa sia questa cosa però o w a r a i che cos'è diciamo e che cos'è manzai sono quei due due come si dice il duo comico giapponese che fanno ah ok 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 quello di potreste fare un tipo duo comico giapponese ma in italiano che però non ha senso saresti un duo comico in italiano semplicemente so che faremo che ci picchiamo come fanno in giappone fanno giochi di parole quindi alla fine come il cabaret italiano e qui c'è il dissing sul cabaret no vabbè il cabaret che come che 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 diolo benedica che salutiamo infatti che salutiamo esatto salutiamo il cabaret e poi chiedono quando verrai esibirte in sardegna zona bianca e questo lo uso io in generale come come cosa per dire cosa cosa ti aspetti dal futuro dei live e perché tu poi c'hai avuto cioè quanti quanti spettacoli tu c'hai uno spettacolo tuo tuo scritto completo fatto sì io sono arrivata a portare addirittura 55 minuti una volta a Padova una seconda in Friuli quest'estate la primissima volta che ho fatto il mio spettacolo da un'ora a Padova era il giorno in cui hanno rimesso obbligatorio le mascherine anche all'aperto per cui è stato tragico e la seconda volta in Friuli distanziati mascherati e poi li hanno richiuso tutto perché era verso ottobre una roba del genere per cui avevo appena iniziato è quello brutta cioè brutto colpo nel senso appunto viene messo un video che va molto bene quindi immagino ci sia una certa richiesta e poi questo tappo e quindi ancora non ti sei riuscita a godere appieno la cosa di ho il mio spettacolo lo porto in giro con la gente senza mascherina esatto speriamo quest'estate a questo punto speriamo speriamo quest'estate all'aperto anche se non so cioè in realtà mi sembra più realistico inverno prossimo sinceramente ma speriamo speriamo presto e va bene io direi di andare verso la chiusura nel senso che così andiamo pure a cena prima di prima di vedere Sanremo Yoko grazie grazie mille per essere venuta a Tintoria mi è fatto molto piacere grazie a voi ragazzi ti invito già quando verrai a Roma e potremo fare le cose non a distanza ma dal vivo sei reinvitata in un'altra puntata mi devi firmare il poster di Tintoria che ci sono le firme delle persone che sono venute ma non non a distanza quindi già già sei prenotata per una seconda puntata di Tintoria sappilo stravolentieri grazie mille senz'altro chiaramente a quel punto in Giappone non sbagliare il numero di goccioline infatti una cosa so ancora scrivere lo farò volentieri come si scrive Yoko con e ko ovviamente è bambino ragazza perché tutti i nomi che finiscono con ko sono femminili e yo è yo di occidente tipo yoshitsu washitsu stanza occidentale stanza orientale e yo e questo occidente lo fai con la pecora e a sinistra le tre gocce d'acqua ok ho scritto Yoko è uscita Yoko Ono che è scritta così quindi se vuoi sapere come è scritto quanto spesso ti dicono Yoko Yoko Ono abbastanza perché alla fine sai se viene in mente una Yoko mezza giapponese diciamo lei ha ancora un pelo più famosa ma per poco sicuramente ancora di poco per poco la Yoko più famosa sarà esatto per la prossima quando verrà a fare tintoria di persona e mi fermerai quello sarei tu la Yoko più famosa e va bene allora Yoko grazie di nuovo grazie a voi grazie anche a Stefano è stato un piacere il piacere il piacere è stato nostro ringrazio anche tutti gli spettatori le spettatrici ciao a tutte ciao a tutti ci vediamo alla prossima puntata ciao grazie a tutti